Datemi ragione in questo, a me, io sono un'artista che fa musica, non capisco perché certe domande vengono fatte solo a me. Io sai quando vedo interviste a tutti gli altri tranne me, a parte che sono veramente noiose, nel senso non si parla di niente se non del loro disco, di come vivono al successo, perché non gli chiedete cosa pensi della politica, cosa pensi dell'Italia, cosa pensi delle prospettive di lavoro degli italiani. A me fanno domande come se fossi un opinionista, io sono un artista come tutti gli altri, quindi la domanda non è a me quanto seguo la politica, è quanto gli altri artisti seguono il mondo reale, invece di parlare di Margherita.